Grazie di essere qui, un grazie particolare a Mercedes-Benz, un grazie agli sponsor Continental, Basf e Viurt che ci seguono ormai da anni, un grazie a tutti voi innanzitutto perché se no non avrebbe motivo di esserci questa serata e un grazie a Marco Aghetaz che fra un po' ascolterete e che è tornato a questo bel evento. Prima di tutto io credo che queste occasioni siano un momento straordinario per tirare fuori la testa da sopra il motore, da sotto il cofano. Abbiamo tutti un motore, tutti un cofano, io ho lo schermo del pc come cofano, la tastiera come motore e se ogni tanto non tiro fuori la testa non vedo che cosa succede. Nella chiacchierata che avete fatto con i partner, con lo scambio di informazioni fra di voi, con quello che sentirete e quello che andrà avanti nella serata, portatevi a casa una, due, massimo tre idee e a partire di lunedì cercate di metterle in operazione. Prendo spunto da quello che ho imparato da Mark, togliete la testa dal cofano ogni tanto e ricordatevi che voi siete interfaccia con i clienti e che molti clienti da voi comprerebbero con estremo piacere l'auto e basta semplicemente dire al cliente ce l'ho, ci aspettiamo che ci avviate una mano a fare in modo che questa comunità cresca per interesse e volume anche perché il caro Mark ha detto che il prezzo non conta ma conta altro e noi siamo qui per darvelo. Grazie e buona continuazione.